Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Ho incontrato giovedì 26 febbraio a Bari, presso la presidenza della Giunta regionale, l'ambasciatore Lorenzo Angeloni, direttore generale per la promozione del sistema paese della Farnesina. Nel corso dell'incontro, importante ed utile, abbiamo presentato all'ospite le politiche regionali nel settore dell'internazionalizzazione e della competitività delle imprese. Numerosi sono infatti gli avvisi e cospicui gli investimenti che facciamo qui in Puglia per promuovere ed accelerare i processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. Proprio tra qualche giorno partirà il nuovo avviso pubblico a Sportello che offrirà agevolazioni economiche fino ad un massimo di 500 mila euro alle piccole e medie imprese pugliesi che vorranno estendere i loro commerci all'estero. È una misura che abbiamo fortemente voluto e che dopo circa un anno di lavoro di concerto con le associazioni datoriali e con i sindacati siamo riusciti a mettere in campo. Tale misura è stata molto apprezzata dall'ambasciatore Angeloni. In questo momento stiamo lavorando alacremente anche per far partire al più presto le nostre due zessi interregionali per le quali auspichiamo altresì ulteriori benefici fiscali per le imprese ed interventi per attrarre nuovi investimenti. Ho espresso, prosegue Borracino, la necessità di inserire Taranto all'interno della Via della Seta e di localizzare a Taranto il Centro Europeo per l'intelligenza artificiale. Abbiamo apprezzato l'iniziativa dell'ambasciatore Angeloni che ha voluto questi incontri al fine di accompagnare più proficuamente l'attività di sostegno che la direzione generale da lui presieduta e chiamata ad assicurare in collaborazione con le regioni. La sua volontà di apprendere dalla viva voce di quanti istituzioni e imprese sono chiamati a promuovere e a svolgere le attività di ingresso e di consolidamento nei mercati internazionali indica un metodo di lavoro encomiabile proprio perché ha inteso partire dalle esperienze concrete e dalle indicazioni operative dei territori. E conclude così Borracino, anche l'ambasciatore Lorenzo Angeloni ha sottolineato più volte la volontà di fare sistema e di lavorare insieme creando un tavolo di lavoro specifico sulla attrazione degli investimenti, riconoscendo alla Regione Puglia la solidità della struttura internazionalizzazione per le imprese messa in piedi in questi anni.